Dopo la prima fase di somministrazione del vaccino per contrastare il covid sono state 10 le persone che si sono positivizzate contraendo il virus e non potendo ricevere la seconda dose prevista oggi dalle ore 13 presso il sesto piano dell'ospedale maggiore di Cremona in cui sono state anche preparate le dosi da somministrare. Questo è il flaconcino nella sua forma originaria cioè non ancora diluito, a questo si estrarranno le sei dosi, questa è ovviamente la sua forma scongelata, va basculato 10 volte, non agitato, basculato, poi si inizia la diluizione. Sei dosi in questo momento in quanto tempo si vengono preparate? Ogni flaconcino sei dosi, sei dosi cinque minuti, si fa tornare sullo stantufo per riequilibrare le pressioni e poi si parte a fare le dosi con una siringa di insulina in modo tale da avere la dose precisa che sono 0,3 ml pari a 30 microgrammi di composto attivo, poi linea ci mette subito l'etichetta con la data e poi l'ora di diluizione e l'ora di scadenza. L'ora di scadenza è a sei ore da adesso, invece la scadenza prima di diluirla è cinque giorni dallo scongelamento. Quanti saranno gli operatori a beneficiarne? Oggi sono 168, oggi sono un po' meno del solito per, così se ne, casualmente ecco, di solito sono circa 250. Tra tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose ci sono 10 persone che in questi giorni che stiamo erogando le seconde dosi non si presenteranno per patologie intercorrenti, ecco, per lo più sono persone che si sono positivizzate, per fortuna stanno anche bene, però ecco, di fatto sono positive e quindi un po' non possono venire perché sono positive. E un po' l'ultimo aggiornamento di AIFA prevede che in questo caso la seconda dose venga posticipata in base all'andamento della sierologia, cioè degli anticorpi.